Dicci subito cosa è successo. Non so cosa intendi. Perché sei qui? Non ero più dell'umore giusto per Monaco. È molto più bello qui. Smettila di mentirci, Lisa. Sappiamo che non siete qui volentieri. Sì, mi piace stare qui. Smettila di mentire. Ci dica la verità. Per favore, andatevene. È la cosa migliore per tutti. Credimi. Lisa, ho bisogno che tu ci dica tutto. Forse possiamo aiutarti. Ok, ma non qui. Vieni con me. Hai ragione. Clara è dietro a tutto. Mi ha fatto venire qui. Perché hai appena ceduto? Perché ha ferito la mia famiglia? Non potevo permettere che accadesse. Quando smette di farlo? Non lo so forse mai. Cosa intendi con questo? Tornerai qualche volta, vero? Devo proteggere la mia famiglia, Sara. Forse dovrò andarmene da qui per sempre. No, non sto piangendo per questo. Benvenuti agli anonimi genitori di Raven. Penso che abbiamo tre nuovi membri. Vuoi presentarti brevemente? Cominciamo! Salve a tutti. Siamo Martin e Marie. Perché sei qui? I nostri bambini sono scappati entrambi. Siamo cattivi genitori. Vogliamo che i nostri figli tornino. Non preoccuparti. Ti aiuteremo in questo. Chi era quello? Non sono stato io. Le scoreggi anonime sono un piano più in basso. Oh ok, scusa. Dobbiamo fare qualcosa, Lisa. Sì, dobbiamo combattere Clara. L'ho già provato. Non c'è speranza. Clara ha troppi follower. Non abbiamo alcuna possibilità contro di loro. Cosa vuoi fare allora? Vuoi semplicemente arrenderti? Sì, è meglio per tutti. Per favore, dite a mamma e papà che sto bene. E ti prego, fammi un favore. Non tornare qui. Mi dispiace, Sara e Samuel. Ma è l'unico modo. Oh no, è Clara. Spero non si sia accorta che Samuel e Sara erano qui. Devo rispondere. Altrimenti, si rende conto che qualcosa non va. Ciao Lisa. Come sta il mio Frankfurter preferito? Lasciami in pace. Clara. Non voglio parlare con te. Stai andando bene come ti dico. L'hai capito? Sì, capisco tutto. Molto buono. Sei a casa adesso? Oh no, non lo sono. Dove sei allora? Sto arrivando. Vai subito a casa. C'è una sorpresa che ti aspetta. Ok. Ora vado. A presto, Lisa. Lisa non vuole che la aiutiamo. Non li deluderò così. Questo è fuori discussione. Ma cosa dobbiamo fare? Non vuole il nostro aiuto. Ho un piano. È meglio se ci presentiamo tutti brevemente. In modo che i nuovi arrivati si sentano a proprio agio. Herbert, stai iniziando? Sì ok, posso farlo. Salve, sono Herbert. Ho 35 anni e sono un cattivo padre. Perché sei un cattivo padre Herbert? Ho avuto un bambino una volta. Sono andata al supermercato con lui. All'improvviso c'è stata un'enorme offerta speciale. Qui trovi un cheeseburger al prezzo di 2. Solo fino a esaurimento scorte. Resta qui per un minuto, tesoro. Torno subito. Cosa è successo allora? Non ho ricevuto nulla dall'offerta speciale. Era già tutto esaurito. No, intendo con il bambino. Oh. Purtroppo era già tutto esaurito. Aspetta un minuto. Dov'è Hugo? Tuo figlio è appena scomparso? Sì, probabilmente qualcuno lo ha rapito. Ho portato con sé per sbaglio. Vedi Marie, non siamo i genitori peggiori qui. C'è un pacco sul mio letto. Cosa vuole Clara adesso? Mi ha mandato un messaggio. Forza Lisa, apri il pacco. Ti piacerà. Cosa dovrebbe esserci lì dentro? Forse Clara è carina per una volta. Non parli sul serio, vero? Beh Lisa, ti piace il mio regalo? Perché mi stai dando un casco e un giubbotto di sicurezza? Perché da domani lavorerai in cantiere? Ma lavoro già otto ore al giorno alla MC Germans. Questo non è abbastanza antisociale. Devi arrivare al cantiere. Non c'è niente di più antisociale. Ti prego, non farlo, Clara. Ti prego, abbi pietà di me. Se non sei in cantiere stasera, sei nei guai. E non pensare nemmeno di mentirmi. Ok Clara, ci sarò. E cosa ti è successo? Ti riferisci a me? Sì, anche tu sei un cattivo padre? Non ne voglio parlare. Ma è l'unica ragione per cui siamo qui. Va bene, te lo dico. Tornati in ospedale, sono nati due bambini contemporaneamente. Volevo solo prendere uno sneakers per un minuto. Rimani qui per un minuto, ok? Torno subito. Ok, allora ti sei procurato uno sneakers. E poi? Dopo, è successo. Ci sono tornato di nuovo. Ma non ero sicuro di quale dei bambini fosse il mio. Ci ho pensato a lungo. È stato allora che ho preso una decisione. Hai preso la decisione giusta? No, ho portato il bambino sbagliato. Il mio vero figlio è là fuori da qualche parte. Marie, penso che siamo ancora le persone più normali qui. Sì, andiamocene subito da qui. Nessuno sta guardando in questo momento. Ok, andiamocene da qui. Salve, sono Lisa. Sei la nuova ragazza, vero? Sì, dovrei dare una mano oggi. Dovevi essere qui 15 minuti fa. Scusate, la mia metropolitana era in ritardo. Questo non mi interessa. Ora vai lì dietro e pulisci. Andiamo adesso. Non vieni pagato per stare nei paraggi. Oh cavolo, è davvero estenuante. Sei appena arrivato. Quando è finalmente la pausa pranzo? Non ci sono pause qui. Ti fermi quando il lavoro è finito. Sto per ribaltarmi. Non comportarti così adesso. Continua a pulire. Va bene. Ehi, svegliati. Ho detto che dovresti svegliarti. Che ore sono? Hai lavorato solo due ore. Ma mangeremo qualcosa. Vuoi venire con me? Sì, ho un cheeseburger in frigo. Bene, allora alzati. Dov'è il mio cheeseburger? Era lì prima. Oh, è il tuo cheeseburger? Stai mangiando il mio hamburger adesso? Mi dispiace, pensavo fosse stata mia moglie. Non hai nemmeno una moglie, Stefan. Ehi, non devi dirlo a tutti. Mi ha lasciato tre anni fa. Ne ho abbastanza. Puoi fare le tue cose da solo. Mi dimetto. Ora puoi pulire il pavimento. Non c'è modo che io ti stia aiutando. Cosa facciamo adesso? Lisa ci ha bloccati entrambi. Non riusciamo nemmeno a parlare con lei? Non vuole davvero il nostro aiuto. No, Lisa ha già deciso. Vuole rimanere qui. Forse dovremmo rispettare la loro decisione. Pensi che dovremmo andare di nuovo? Sì, forse è davvero il massimo. Un treno parte dalla stazione ferroviaria principale tra un'ora. Lo prendiamo subito? Sì, prima usciamo da qui. Meglio è. Cosa stiamo facendo con i bambini Martin? Se ne sono ancora andati. Penso che dovremmo aspettare e vedere per ora. Dopo aver sentito le altre storie, sono rassicurato. Non siamo così cattivi genitori. I bambini torneranno sicuramente presto. La pensi davvero così? Sì, dobbiamo solo essere pazienti. Ok, mi fido di te. Non ci posso credere. Clara ha vinto davvero. Questa è la vita, Samuel. A volte vinci e a volte perdi. Abbiamo perso oggi. Attenzione! Il treno per la stazione centrale di Monaco parte dal binario 4. È il nostro treno. Ok, andiamo. Aspetta! Fermati! Lisa, cosa stai facendo qui? Vengo a Monaco con te. Davvero? Ma che mi dici di Clara? Mi inventerò qualcosa. Ma non ho intenzione di scappare sempre. Devo fermare Clara. Ti aiuteremo in questo. Hai già un piano, Lisa? Sì, ma è molto rischioso. E ho bisogno del tuo aiuto. Nessun problema, siamo con te. Qual è il piano? Quindi fai attenzione. Hai capito tutto? Sì, sappiamo cosa fare. Dove ci incontriamo? Ci vediamo da Clara stasera. Non vuoi andare a casa per un minuto? Mamma e papà lo adorerebbero. No, non posso. Non so se il piano sta funzionando. E non posso sopportare un altro addio. Ok, allora ci vediamo stasera. A presto. Ciao mamma, ciao papà. Oddio, Samuel. Sei tornato. Dove sei stato tutto il tempo? Sì, e dov'è Lisa? Devo andare subito di nuovo. No, tu rimani qui. Dove alloggiano? Non abbiamo molto tempo. Possiamo iniziare? Sì, dobbiamo sbrigarci. C'è un ingresso laggiù. È lì che entriamo in casa. Sara ora è la tua parte. Ok, farò del mio meglio. Devi essere il più silenzioso possibile. E il fatto è che funziona solo con il cellulare di Clara. Puoi contare su di me. Sembra così tranquilla quando dorme. Il suo cellulare è laggiù. Devo stare attento. Mamma, sei tu? No Clara, torna a dormire. Ok, buonanotte mamma. Hai il cellulare? Sì, è qui. Ben fatto Sara. Sto configurando tutto adesso. Allora chiameremo Clara. Clara, scendi. Hai dei visitatori? Chi c'è? Vieni al piano di sotto e vedrai. Ciao Clara, come stai? Lisa, cosa stai facendo qui? Hai dimenticato il nostro accordo? Non ho più paura di te. Ma dovresti. L'hai già dimenticato? Posso distruggere la tua vita. Dite cosa avete fatto. Dimmi di aver mentito a tutti. Sì, ho mentito a tutti. E lo farò ancora. Grazie per la tua confessione, Clara. Luci accese. Cosa sta succedendo qui? Saluta i tuoi follower, Clara. Sei in diretta streaming. Ehi ragazzi, era tutto uno scherzo. Non era tutto inteso in quel modo. Ti prego, credimi. Nessuno ti crede, Clara. Tutti si stanno cancellando dal tuo canale e mi seguono su Instagram. Cosa stai facendo adesso? La stessa cosa che hai fatto a me. No, ti prego non farlo. Siamo contenti che tu sia tornata Lisa. Anch'io. Monaco è molto più bella di Francoforte. Comunque, cos'è successo a Clara? Clara è il posto a cui appartiene. Odio stare qui. Voglio tornarci di nuovo. Per quanto tempo Lisa ha lavorato nel cantiere? A. Un'ora. B. Due ore. C. Tre ore. Lascia un commento.